Un cordiale saluto a tutti voi telespettatori. Diamo inizio a questa nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno con, tra i nostri paesi, giornale interparocchiale di Vallesella, Domegge e Calalzo, parrocchie richiamate dalle immagini dei loro patroni. Il parroco, Don Simone Ballis, sottolinea come il bollettino allo scopo, il giornale parrocchiale, allo scopo di far conoscere le varie realtà parrocchiali che si sono vissute e anche a programmare il futuro. Davvero un bel gioco di squadra, Don Simone sottolinea come, riflettendo anche sulla vittoria degli italiani e il campionato europeo di calcio, che non basta essere campioni, bisogna fare un gioco di squadra. Lo stesso vale per le comunità parrocchiali dove ci deve essere la capacità di dialogo, la comprensione, il senso di complicità che fa bene a tutti, che tiene uniti è la fede in Cristo Gesù. La foto, ultimo giorno di catechismo, a maggio, con le biciclette dei ragazzi partecipanti. Riflessioni, la vicenda della Chiesa di Valle, che cosa ci dice, ha riportato una riflessione di Don Osvaldobelli, parrocco di Lozzo, di fronte alle difficoltà ben note anche ai telespettatori della Chiesa di Valle, che era stata costruita ben in vista. Oggi è in difficoltà, dice un po' come la Chiesa, ci sono dei grossi cambiamenti, da maggioranza a minoranza, ci sono anche le tensioni con le nostalgie, tra i più vecchi e non solo, qualcuno che invoca e ritorna al passato, qualche altro che vorrebbe correre avanti. Gli atti degli Apostoli, nel loro riassunto della vita delle comunità cristiane, indicano qual è il segno da dare, erano concordi nell'insegnamento degli Apostoli, nella comunione, nella spezzare il pane e nella carità. Nella Pasqua definitiva, tutti nei nostri pensieri, un ricordo dei sacerdoti che in quest'ultimo periodo ci hanno lasciato, hanno concluso il loro servizio e la loro vita terrena, Don Giovanni Marcon a Cesio Maggiore e il grazie che vuole dire Don Simone, personale anche a questi sacerdoti, in particolare a Don Giovanni Untenberger. Una riflessione ancora a Don Giuseppe Portolasi in punta di piedi ci ha lasciato, un saluto anche a Don Giovanni, vengono riportati i testi utilizzati nel momento della loro morte. Ricordando Don Elio Larisi, anche qui una bella riflessione, una foto di Don Vinicio, forse da molti conosciuto perché è già segretario del Vescovo Duccoli. Feste pasquali ricche nella nostra comunità, viene data una documentazione, il cammino catechistico da reinventare proprio in questa situazione è necessario che ci sia anche un po' di fantasia. Il fioretto celebrato nelle parrocchie, a Calalzo la festa del perdono e della prima comunione, la cresima celebrata il 29 maggio, appuntamento alla chiesa del Caravaggio, la canonica di Calalzo luogo amato e valorizzato. Abbiamo poi da San Giorgio e San Vigilio in Valesella la prima comunione in due momenti, proprio per rispondere alle esigenze imposte dalla pandemia, la prima confessione, il dono della confermazione anche a Domeggio e San Giorgio, la celebrazione in onore di Sant'Antonio, cioè sono continuate tutte le devozioni, le venerazioni che ci sono in queste parrocchie. Qui abbiamo la chiesetta dei Romiti che ha una custode e che sta diventando un punto di riferimento della zona. Abbiamo poi, è stato in cadore, le proposte e gli auguri alle comunità per le varie realtà dell'anagrafe. Abbiamo visto tra i nostri paesi il giornale parrocchiale di Valesella, Domeggio e Calalzo. Passiamo a Sentieri, giornale delle parrocchie di Pieve di Cadore e di Pozzale di Cadore. Uno sguardo sereno che il giornale invita nell'articolo di fondo perché è necessario rimanere pazienti nella nostra stessa inquietudine, dice l'articolista, e riprende una preghiera che si celebra durante la messa, tu Signore non abbandoni mai quanto hai creato con sapienza providente, continui ad operare in mezzo a noi. Ecco, questa certezza dà maggior serenità nel nostro guardare avanti. Pronti a ripartire la riflessione di Don Diego Soravia in riferimento alla realtà attuale di riprendere il cammino facendo tesoro delle esperienze precedenti, eliminando gli sbagli e concretizzare i traguardi da raggiungere possibilmente insieme. Incontro domenicale come punto di riferimento e la vita parrocchiale come espressione di questo desiderio di camminare. Una riflessione, l'eredità di Caino dà la violenza alla parola, l'umanità e le radici dell'odio, una riflessione di Recalcati. Viene dato poi conto con un ricordo affettuoso della morte di alcuni sacerdoti, tra questi nell'elenco l'ultimo, si aggiunge Don Francesco Silvestri che alla fine d'agosto ha concluso il suo calvario ad appena 57 anni di vita. Don Francesco Silvestri, ben conosciuto in Cadore e non solo, poi in tutta la diocesi è servito anche nella realtà italiana dell'azione cattolica. Viene ricordato anche Don Maurizio Doriguzzi che è stato parroco per 40 anni a Campolongo. Importante evento culturale, la pubblicazione di uno studio sul grande altare, purtroppo nei secoli smembrato, che c'era Pieve di Cadore, un libro della serie che illustra le realtà, tesori d'arte nelle chiese del bellunese. Dal titolo L'altare a battenti di Santa Maria Pieve di Cadore, occasione di riflessione, ecco un altare con le ali, viene presentato questa grande realtà artistica che si sogna di ricomporre. Due apostoli e due capolavori, gli apostoli Pietro e Paolo presentati. La battaglia di Cadore, storia, contesti, copie da Tiziano, una mostra che è stata realizzata e ha ottenuto veramente interesse dal 10 luglio al 19 settembre, promossa dal magnifica comunità di Cadore. Gli ultimi stagioni della vita è una riflessione di un anziano sulla fatica, oltre che sulle sicurezze, che dà la casa di riposo. A Pozzali una bella mostra sui 70 anni di vita del gruppo rocciatori chiamati Incadori e i ragni. Per Paolo Genova un libro, Zanno in spalla, il diario della grande guerra di Pietro Genova. Vengono presentate poi feste in famiglia, fiori estivi, alcune riflessioni che il paroco fa in esperienze che ha vissuto quest'estate, a Visanzi, vivendo attorno alla sua chiesa e alla sua realtà. Una riflessione provocatoria, non si discute con gli asini. Uganda chiama Cadore, Cadore risponde, ecco la realizzazione di interventi in Uganda per dare la possibilità alle persone di sopravvivere. Giornata del creato a Vedorcia, celebrata con significativo rilievo e anche partecipazione, la giornata il primo settembre del creato a Vedorcia, Pieve di Cadore. Abbiamo visto Sentieri, giornale della parrocchia di Pieve di Cadore e Pozzale. Passiamo al Vesesse, cartoline sulla Val Belluna, in prima di copertina, il tiglio monumentale di Val Morel a Limana e viene presentata la realtà di Val Morel soprattutto attraverso quella che è l'esperienza passata sulle orme di Buzzati, Buzzati del quale si ricordano ormai i 50 anni, un altro anno della morte. Tutte le strade portano a Buzzati, viene presentato l'itinerario che ripercorre le tappe dello scrittore. Quest'anno sono i 50 anni dell'uscita della sua pubblicazione, i Miracoli di Val Morel. Abbiamo la chiesa di Madonna Parè, la Via Crucis, il Capitello di Santa Rita, il Calvario, tutti i riferimenti anche raccontati nelle pagine dello scrittore. Il sentiero di Buzzati rappresenta emozioni a contatto con la natura, viene descritto. A Giaon poi ci sono tre affreschi in compagnia di Buzzati che richiamano le realtà del paese e questi racconti sono di tre artisti conosciuti nel bellunese. Abbiamo un affresco di Dunio Piccolin, un altro di Marta Farina e un altro di Vico Calabro in murale, interessanti che il giornale descrive. Viene presentato poi di Giaon il lavatoio, interessante luogo di ritrovo significativo nel passato dove le donne accompagnate non raramente dai bambini venivano per realizzare quella che era il lavaggio della loro biancheria. I Baccalence, gli artisti del legno a Valmorel, viene presentato questa interessante iniziativa, 50 sculture spasse nel territorio di Valmorel ad opera di artisti locali che hanno voluto così lasciare il segno del loro passaggio. Due anni dedicati a Buzzati, le iniziative del Comune di Limana vengono presentate, qui abbiamo la foto di Nobuzzati e qui invece la villa dove è nata, dove è nato la villa sulla strada che da via Montegrappa porta a Visome e poi a Limana. Il giornale presenta poi un interessante racconto riguardo ai Carighete e il gaburo del Carighete. Il gaburo era il ragazzo, Garzone che diventava apprendista nell'arte del sistemare le seggiole dei seggiolei detti anche Carighete. Un interessante articolo che presenta un'esperienza di questi artigiani che viaggiavano all'estero in Italia e poi ogni tanto rientravano al loro paese. Abbiamo poi la presentazione dell'ultima lateria turnaria, quella che c'è a Valmorel, con i soci, abbiamo l'edificio, la vasca per volire il latte e il momento della lavorazione. In realtà quella delle laterie turnarie accanto a quella delle laterie sociali che erano diffuse un po' in tutte le frazioni dei nostri paesi per raccogliere e lavorare il latte delle molte stalle presenti nella zona. Viene dato conto anche di una interessante attività sportiva amatoriale, storia di un torneo cresciuto nel tempo dal 1981, per 23 anni questa gara sportiva paesana che ha coinvolto fin a 20 squadre realizzata a Meano. Casello di Ignang, un'opera per la comunità, la presentazione di un luogo dove la comunità si può ritrovare. Casa Buzati, l'ex villino Zanella, riuscirà a diventare bivacco, una documentazione di un sito da sistemare. Al cantonè De Gena, la montagna ritorna vivere grazie al volontariato, viene presentata la festa di inaugurazione di una sistemazione di Gena, dove hanno dovuto andare via gli abitanti quando si è creata la diga e adesso, dopo anni magari anche un po' di abbandono, stanno ritornando per sistemare questi luoghi e farli diventare anche luoghi di incontro. Sospirò nel 2030 ascoltare i desideri dei giovani. Ecco poi un interessante racconto di come si svolgevano i funerali nella Val Belluna attraverso le varie partecipazioni, attraverso le varie realtà che venivano utilizzate. Ecco, il giornale poi continua con tante altre pagine interessanti. Il Vesesse, cartoline sulla Val Belluna. Con questo si chiude la nostra rassegna settimanale di giornali della provincia di Belluno. Auguriamo a tutti i telespettatori e buona continuazione con i programmi di Tele Belluno.